Quali sono gli obiettivi e gli interventi programmati? L'obiettivo del convegno è aprire un ragionamento serio sullo sviluppo delle aree interne e che in Abruzzo vuol dire per forza ragionare con le aree naturali protette e con i parchi nazionali. Al convegno parteciperanno i direttori dei parchi nazionali proprio per capire da loro quali possono essere il futuro della gestione dei parchi. In particolare ci sarà la partecipazione dell'onorevole Borghi che oltre a essere il presidente dell'UNCEM è importante il relatore di una serie di normative che riguardano proprio i piccoli comuni, lo sviluppo della montagna e la strategia delle aree interne nazionale. Per cui sarà un'occasione insieme a lui, insieme anche al presidente di Federparchi Abruzzo e insieme a alcuni docenti dell'Università di Teramo ragionare proprio su quello che sarà il futuro della strategia di sviluppo delle aree interne della regione. L'Università di Teramo deve e tra i suoi compiti istituzionali vi è quello di intervenire nell'ambito dei territori. I territori che nel caso della regione Abruzzo rappresentano in termini di protezione una larga fetta del proprio territorio così come un biglietto da visita della regione Abruzzo a livello nazionale e internazionale. Per portare a termine però tutto questo tipo di operazioni, di progetto servono degli operatori, servono dei protagonisti del territorio che devono essere formati. Noi ci rivolgiamo ai giovani neolaureati che a questo punto possano intraprendere nell'ambito dei territori protetti favorendo lo sviluppo locale e favorendo anche un loro benessere sociale compatibile con l'ambiente nel quale operano.